ragazzi con la tv e le gare c'è stato un cambiamento incredibile sky fa la pubblicità su mediaset dichiarando guerra aperta i motori abitano qui f formula 1 e moto gp deve essere davvero piacevole non poter rifiutare una pubblicità del genere da parte di del gruppo mediaset le regole più o meno sono queste gestita benissimo la prima la formula 1 per quanto riguarda la moto gp per la quale insomma gli appassionati sono già incazzatissimi per di dover pagare ancora per vedere una cosa abbiamo già assistito ad uno scempio mediatico in occasione dei test che è superiore di molto a molti picchi già visti sulla reti meris negli ultimi anni l'istituto luce a sky fa una pipa 29 euro al mese e potremmo sentire parlare di valentino di rossi della yamaha una delle due in moto gp da parte di persone accuratamente selezionati da valentino stesso bareschi infatti sky sport diciamo l'imam del messaggio sportivo da trasmettere per diciamo così per trasformare sky sport in una scuola coranica sportiva mentre mentre le persone prima si erano formate in maniera naturale diciamo così per il mercato anche un po per passione queste sono lì per chiamata diretta invece nelle classi minori avrete il piacere di sentir parlare del team vr 46 sponsorizzato da sky e qualche volta anche del team italia che è un vivaio così italiano che è andato a prendere bagnaia che è un pilota che è asciuto nel centro vabbè giusto così tanto per dimostrare la bontà del vivaio italiano insomma e quindi col distacco anglosassone che contraddistingue una tv a pagamento sentiremo abbastanza parlare di questo rapporto non so se avete sentito fra sky e il team di valentino rossi che insomma verrà trattato assolutamente in modo uguale agli altri questo è evidente chiude il cerchio la totale mancanza di conoscenza anche proprio dei dettagli minimi della moto gp da gente è andata lì tipo donato grossi grosso grossi che negli ultimi test aveva un bigliettino con scritto l'indirizzo dell'hotel l'altro con scritto l'indirizzo del circuito e con il suggerimento segui il rumore delle moto un identikit di valentino e un biglietto con le cose di cui parlare rossi valentino valentino rossi e il team vr 46 e questo ha fatto il tutto a 29 euro al mese ma ieri c'è stata la superbike lasciamo perdere sabato durante le prove ex superpol altro scempio regolamentare secondo me è stato snaturare ulteriormente la superbike che comunque non è riuscito a essere noiosa lo stesso perché è stato comunque un po divertente c'è un episodio non punibile cioè la legge dice che se sei cleptomane cioè rubi mentre dormi o fai delle cose mentre dormi o sonnambulo non puoi essere non puoi essere punito cioè se rubi senza che te ne accorgi o dormi mentre fai le cose insomma non può essere punito è quello che è successo sabato uno non sa veramente niente di superbike e l'altro viaggi si è trovato a non poter dare un approccio tecnico perché se tu togli al tecnico l'unica possibilità di fare il tecnico sia essere sul posto informarsi sulle cose parlare con la gente vedere quello che succede andare lì sentire la pista parlare che tecnici a tu per tu parlare con i tuoi colleghi e telefonate non bastano è chiaro che gli impedisci di fare quattro quinti del suo lavoro questo è stato il primo weekend in cui io non promuovo viaggi anche se gli riconosco due cose è vitale perché l'unico a sapere di che parla e dire cose sensate anzi a volte anche a predire il futuro in maniera clamorosa ma questo è evidente che è legato le competenze l'altra cosa è che non è stata messa non è stato messo in condizione di lavorare io divignando criticato sempre due cose ma sono due cose non prettamente editoriali che si criticano una sola volta lì interminare gli strafalcioni e il perdersi decine di sorpassi sbagliando i nomi dei piloti e le marchette lo farò anche in questo caso sorpassi e ritiri ignorati piloti nelle retrovie ignorati mancanza di conoscenza dei piloti e marchette lo faccio solo questa volta punto discorso chiuso non lo farò mai più ci si dia una regolata per quanto riguarda le critiche alla 7 in generose soprattutto dai colleghi delle tv devo dire che la 7 non ha saltato una trasferta poi magari succedevano dei casini nell'emissione perché era una tv politica c'era il notiziario c'era il tg eccetera però andavano lì lo stesso spendevano i soldi non capitalizzavano medeset invece sembra che non farà nessuna delle gare extra europee ossia oltre a philippa e l'anzio non ho sentito male se non ho capito male anche se panglag una seppa fa chisa freeway freeway in sudafrica e quell'altra da confermare cioè medeset ha preso la super vai per avere due ruote anche lei ma non gliene frega un cazzo la mia sensazione è questa con la metà dei soldi che spendeva per la moto gp ha preso super bike e moto cross e vedremo come gestiremo anche quest'ultimo gli frega solo dei tre anni di cento faccio inoltre presente che quest'anno è l'anno dei mondiali di calcio in brasile in brasile poi le moto sti cazzi dal 12 giugno al 13 luglio metti una settimana prima una settimana dopo per smaltire i mondiali vedrai prendi il calendario dello super bike che vedrai che sono comprate se pang misano portimao e laguna seppa logistica temporale perfetta per batterse nella cippa prima e ultima non si va una casa comoda l'altra in portogallo costa poco ti vedi anche la partita in autostrada così poi dopo le vacanze si fa uno sforzino ad andare a mosca eventualmente se c'è un mondiale da giocarsi in sud africa ma forse ma forse non gliene frega un cazzo altrimenti nel 2014 tu non mandi uno a fare le interviste con uno start up che non si sente a dei passanti mentre la regia internazionale inquadra i meccanici che mettono nel moto a posto una roba indecente per non parlare dei mezzi tecnici in studio due microfoni e una cuffia e una cuffia in tre che se le passano in uno studio del primo gruppo italiano forse europeo gruppo televisivo intendo gente che si passa il microfono già mi immagino una scena cartoni della pizza aperta 3 4 peroni grandi portati da rangheri in cambio di poter fare la telecronaca dopo aver finito il turno di centralista la gazzetta si questo fa e poi di gara 1 non si è visto il podio non si è sentito un'intervista la ducati ha iniziato è andata bene una volta tanto c'è un pilota nuovo c'è giuliano c'è melano nel debutto in aprile a secondo posto gara 1 ma insomma tutto per dare spazio a un programma demenziale era meglio l'ispettore barnaby sulla 7 e nessuno dice niente nemmeno del fatto che per l'ennesima volta sono state fatte polemiche sull'applicazione di un regolamento che invece è chiaro quello sulla bandiera rossa fatti 22 giri red flag bene gara finita non ci sono interpretazioni è una regola nuova introdotta l'anno scorso e anche l'anno scorso sono numerosissimi gli episodi numerosissimi gli episodi di sonno totale in tutte le volte che è stata applicata eppure regolamento viene distribuito nel media kit che io ancora non ho però sono sicuro che loro hanno ma anche anche così fosse c'è nel libro dell'anno scorso l'anno scorso era giallo quest'anno non so di che colore non è cambiata la regola quindi persino di pillo che nel confronto fra eurosport e mediaset ha asfaltato quest'ultime c'è accaduto si è però accorto di tutto il resto la mia opinione mettete di pillo commentare e viaggi come tecnico così ci salvate la vita e salvate anche un minimo di superbike tanto eurosport più o meno è sulla piattaforma mediaset vedrà vedete che un accordo lo trovate poi è evidente che c'è un qualcosa che non va nell'amalgama fra meda e viaggi ok viaggi a commentare la superbike ok come ospite qualche volta nella moto gp hanno fatto in modo di introdurlo ma i due secondo me non si sopportano max è lì pagato con l'unico scopo di tirare delle frecciate settimanali pesanti e prendere per il culo quelli facendola pagare a quelli che lo hanno maltrattato negli altri anni come ho già scritto nella mia intervista a riders oggi stesso ha tirato fuori la storia di fuori giri e quegli undici minuti di delirio in cui lo hanno sputtanato dicendo che però ora si trova bene e meda che per contratto si è trasformato in una mutazione che mette insieme il dna di emilio fede e di carlo pelle gatti con la versione audio di marione milanese ha detto che ha sempre amato la superbike e che si è comportato da cattivo professionalmente e che ha sempre amato viaggi ti ho sempre amato ma il delirio più grande è quello di aliverti vice direttore motociclismo quello appena sfanculato dai vertici mv per aver definito flop una moto uscita sul mercato a gennaio e quindi fra sabati domenica e cazzi vari probabilmente non è neanche arrivata nei concessionari vice direttore di motociclettismo ma si sa che per uno che mette il traction control a uno scooter tedesco che non ce l'ha a forza di inserzioni pubblicitari per uno così mv è solo una piccola casa italiana che ha metà delle cose migliori di bmw ossia la m e mezza vu ieri ha vinto l'mv dopo 30 e passa anni del nurbrugling di agostini 38 34 non mi ricordo dopo i tre podi dell'anno scorso altrettanto importante perché il primo anno di partecipazione e per aliverti la cosa più emozionante della superbike è stato sentire il nome di stone era qui dedicata alla curva 4 di philip island che poi si è anche sbagliato perché la curva è la 3 ma da buon direttore di motociclismo non lo ammetterà mai e andrà stanotte a spostare la targa per non ammettere di aver tolto in realtà la cosa più emozionante di motociclismo parafrasandolo potrei dire che è che usano la stessa carta del catalogo ikea solo che il catalogo ikea si è eccitato ogni volta che esce perché nessuno ha già scritto le stesse cose altrove due mesi prima nella maniera corretta